In una sola fotografia, la serata di questa sera, cos'è la cosa che le è piaciuta di più? Beh, la cosa che mi è piaciuta di più, credo, il gol di Di Piazza, non tanto il gol in quanto tale, ma credo che, insomma, Matteo, dopo che l'anno scorso ha avuto un anno di sofferenza, nel senso che stava facendo bene, ripetutamente, ha avuto sempre infortuni, ha avuto sempre problemi fisici, si meritava, credo, la soddisfazione del primo gol ufficiale in Serie B. Simbolicamente, diciamo, cito lui, perché poi in realtà anche moltissimi altri suoi compagni avrebbero meritato la stessa cosa, però, insomma, di questo ho stato contento, ripeto, soprattutto per la stagione travagliata che ha avuto Matteo l'anno scorso. Grazie.